La verità è l'unica cosa che serve all'Italia e a tutti quanti, perciò se la giustizia ancora va avanti e ci dà una mano, troveremo chi ha fatto il danno. E' ancora tanto il bisogno di verità sul crack di Banca Etruria ad Arezzo, una vicenda ancora in attesa di una sua verità processuale, ma intanto finalmente questa mattina è ripreso il filone relativo alle cosiddette consulenze d'oro ospitato per la prima volta nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia. Il trasferimento si era reso necessario a causa delle numerose parti coinvolte nel procedimento. La provincia ha così messo a disposizione la sala per garantire la massima sicurezza sanitaria. La richiesta ovviamente non era per l'estetica ma per la riosità e mi sembra che questa abbia tutti connotati per poter svolgere l'udienza. Il processo sulle cosiddette consulenze d'oro per oltre 4 milioni e mezzo di euro, secondo la procura non solo inutili ma anche ripetitive, vede sotto accusa l'ultimo CDA quasi al completo, 14 imputati, tutti accusati di bancarotta colposa, tra loro anche Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena. Il giudice questa mattina era stato chiamato a decidere sulle costituzioni di parte civile, circa 300 tra azionisti ed obbligazionisti. Io credo che sia doveroso da parte anche delle istituzioni, tutte, chiedere come fanno questi cittadini a titolo quindi individuale di arrivare a una conclusione, a comprendere se ci sono stati degli sbagli, chi li ha commessi. Le difese ne hanno chiesto l'esclusione. La legge fallimentare prevede la possibilità per creditori e quindi azionisti, obbligazionisti, quelli che sono, di costituire, ma solo nei processi per bancarotta fraudolenta. Qui stiamo parlando di bancarotta semplice. Il giudice si è riservato la decisione il prossimo 31 marzo.